Salve amici, ho riflettuto tantissimo su alcune ricette che sto mettendo su negli ultimi tempi. Ricette di cosmetica, di bellezza, di salute ed anche curative. Vedo che c'è molto interesse tra voi e vi ringrazio di questo. Vi ringrazio perché mi date la forza anche di andare avanti. Però allo stesso tempo vedo anche e leggo soprattutto alcuni commenti non tanto favorevoli. Io posso comprendere il motivo anche se non lo condivido. Quello che voglio cercare di dire è questo. Io attuo un tipo di vita completamente autonoma, indipendente e vi faccio partecipi in questo. La domanda che vi dovreste porre invece sarebbe tutt'altra. Invece di scrivere oppure di commentare che non si chiama caffè ma tisana. Oppure non è una tisana ma è un tè. Allora cari amici, chiariamo una cosa. La domanda che dovreste farvi è come mai i dottori non parlano e non dicono che il rosmarino è una pianta che fa bene per questo, quello. Come mai non dicono che l'aglio è un vero e proprio antibiotico? Come mai non dicono, se andate dal dottore per esempio, che avete un dolore di dente, vi prescrive la ricettina o andate direttamente in farmacia. Come mai nessuno di loro però vi dice che le foglie di malva o di lattuga fanno andare via il dolore di denti e anche l'accesso. Di questo, queste sono le domande che vi dovreste porre. Non che si chiama tisana invece di caffè o si chiama caffè invece di tisana. Dovreste porvi anche un altro problema, un altro quesito, dovreste farvi questa domanda. Come mai quando andate in una parafarmacia vi consigliano il diservante per l'agricoltura in un certo modo, mentre che i nostri antenati non avevano nessun diservante acquistato, ma lo facevano. Queste sono le domande che vi dovreste porre, queste. E non dire si usa oppure si faceva, si diceva. No, no. Il vero bio, come lo trovate il vero bio? Sapete? Queste sono le domande che vi dovreste porre. La cosmetica, per esempio. Perché quando andate, oppure le parrucchiere, oppure gli esperti, vi consigliano quello shampoo invece di quell'altro, oppure quella cosa invece di quell'altra. Mentre che i nostri nonni, i nostri antenati, non usavano nessun tipo di shampoo di cosmetica artificiale, ma la facevano. O anche un balsamo, o una maschera. Li facevano, li inventavano. Queste sono le domande che vi dovreste porre. E non quei commenti, a volte veramente, insomma. Lo so, il canale è tutt'altra cosa. È la mia vita. È quello che io faccio quotidianamente. Ripeto, da otto anni io non vado più da un dottore. Da quindici anni non varco più. La soglia di un supermercato, di una profumeria, l'igiene, bucato, me lo faccio io. E voi dovreste farvi questa domanda. Come mai vi hanno insegnato, fino a quindici anni fa, anche a me, ci avevano insegnato invece ad acquistare tutto e buttare via tutto, senza riciclare nulla. Perché? Perché siamo caduti così in basso? Questa è la domanda vera che vi dovreste porre, non il resto. Io non ho idea di come mai voi vi fate queste domande, questo tipo di riflessione piuttosto, scusatemi, ma poerile. Mentre che le vere questioni, le vere domande non ve le ponete. Vi siete mai chiesti perché? Voi riponete i vostri risparmi in una banca e nessuno però vi dice che mentre li andate a depositare non sono più i vostri risparmi. Perché la clausola piccola scritta lì giù sono soldi non più di vostra proprietà. Vi siete mai chiesti perché noi acquistiamo una moneta mentre siamo noi i fautori della ricchezza del paese, della nazione e di noi stessi. queste sono le domande che vi dovreste porre e non tutto il resto, perché il resto fa brodo, non è nulla. Quando avrete incominciato a riconoscere, a riprendere un pizzichino di coscienza, non tanto, allora vi prego, allora sì, potete commentare, potete dire tutto ciò che volete. È il sistema stesso che ci ha portato a fare sì che noi siamo dipendenti in tutto, in tutto, avete capito, in tutto, io non più, fortunatamente, ma io l'ho voluto e vi faccio partecipi di ciò che io faccio, in che modo lo faccio, poi sta a voi certamente attuare ciò che io vi dico oppure meno. Io non vi sto vendendo niente, assolutamente, sto soltanto cercando di farvi aprire un po' gli occhi, di incominciare a meditare su dove ci stanno portando e in che modo ci stanno portando. Questo video è un invito alla riflessione, alla riflessione dovuta in qualche modo, perché, carissimi amici, guardate che è importante porvi delle domande invece di altre piuttosto veramente futili, senza senso. Le domande principali stanno altrove. Viviamo un momento molto molto difficile e io sto cercando di mettervi in guardia in qualche modo dicendo cosa fare, come fare, perché si può, chi l'ha detto che non si può, chi? Io lo faccio, sono 15 anni, chi? Chi ha detto che non è possibile? Con sta fatica, chi lo ha detto non è vero, io ho tanto tempo libero. e con questo comunque vi saluto adesso. Vi chiedo perdono di questo mio sfogo, vi chiedo scusa anche, però ci, io me lo sentivo e dovevo farlo. È importante, è importante porsi delle domande invece di altre. Le domande principali sono il perché, il motivo, non le cose futili e si chiama così o si chiama con me? Io vi ringrazio tutti e un bacio, vi abbraccio a tutti, grazie, ciao!